però chiudo questa parte e poi appunto ci prendiamo qualche minuto di pausa con questa slide cioè sicuramente in questo momento vi sarà venuta un po' d'ansia nel senso che alla fine di questa mia introduzione sul diritto d'autore che vedete è durata poco più di un'ora normalmente c'è un po' questo effetto mi manca il respiro perché ci sono tanti diritti e molti di più di quelli che magari uno che non è del settore si poteva immaginare e i morali quelli d'autore quelli che non scadono mai quelli degli artisti interpreti esecutori o quelli anche sugli epistolari queste cose qua c'è una serie di diritti che uno non non aveva magari considerato e soprattutto quel principio che vi ho detto prima del closed by default eccolo qua nel titolo della slide cioè il fatto che il diritto d'autore scatti automaticamente con la semplice creazione dell'opera scatta il diritto l'abbiamo detto e non c'è bisogno di una prova di qualcosa di particolare che lo fa scattare che lo fa registrare diciamo fa sì che sostanzialmente tutto sia sotto copyright detto molto semplificato no però tutto ciò che è creato da altri ha un copyright perché questi altri tendenzialmente avranno un diritto infatti vedete la regola è che tutto è sotto copyright io devo considerare tutto ciò che è stato creato da altri e non da me come tutelato questa è una buona norma diciamo di prudenza salvo poi vedete arrivare a quella situazione di pubblico dominio dovuta alla scadenza dei termini cioè la legge prevede che il diritto che tutti i diritti tranne quelli morali abbiano a un certo punto una scadenza temporale la scadenza dei diritti connessi non ve l'ho detta perché è diversa per ogni per ogni caso quindi sarebbe molto complesso dobbiamo fare mezz'ora solo per dirvi quello però anche quelle a un certo punto scadono e quindi io posso considerare in pubblico dominio un'opera quando tutti i diritti su di essa sono scaduti dopo ci torniamo allora in quel momento vedete siamo cioè stando nella slide a sinistra nella parte sinistra della slide siamo in una situazione binaria cioè acceso spento o tutto sotto copyright o tutto fuori dal copyright che è in effetti un po' ansiogena come situazione perché insomma tutto bianco tutto nero invece no invece per fortuna la legge prevede già delle eccezioni a queste a questa questo bianco e nero a delle sfumature di grigio potremmo dire che sono situazioni di libero utilizzo cioè la la legge prevede già che ha con determinate condizioni con determinate in determinate situazioni le opere possano essere utilizzate liberamente anche se sono ancora diciamo sotto copyright anche se non sono scaduti i termini e vedremo nella seconda parte che quindi probabilmente la prossima volta o magari oggi riusciamo a iniziare giusto giusto il primo pezzo vedremo che questo libero utilizzo può essere o stabilito dalla legge ci sono articoli specifici che citeremo e oppure dall'altro lato stabilito dal titolare dei diritti e qua ho messo il simbolino delle cc cioè creative commons le licenze open che vi racconterò alla fine diciamo di tutto il percorso ovvero il caso in cui è lo stesso titolare dei diritti l'autore l'editore il produttore quello che volete a dire a lasciare l'utilizzo libero delle sue opere perché è una sua scelta e lo fa attraverso l'applicazione di licenze di licenze di specifiche licenze che si chiamano creative commons quindi il